Nella mia vita non è accaduto niente di particolare, niente di straordinario, ho solo imparato una parte dei punti. Ora, che io non parla con una lista di particolari avvenimenti che hanno reso speciale la mia esistenza, non significa che io non sia felice, lo sono. In quella maniera tanto poco americana e così europea che non sa niente della fiducia, quella maniera che dice sono felice ma anche so che non durerà. Ora voi ve lo ricordate nel momento in cui avete detto ora me la dodo e poi la sconterò? Oppure quello in cui avete pensato ora è il caso di darmi da fare e poi vedrai un punto di riposo, dell'esercimento? Io sono il poi, piacere. Faremo cominciare nella mia storia delle cose che ricordo di quel periodo, dal 2006. Del 2006 ricordo che vivevo in un altro paese, avevo un altro lavoro e forse ero anche un'altra persona, sì perché è in primo luogo una persona che chiede. A casa mia non si chiede niente, a casa mia si chiede poco e a chi ve lo può dare. A casa mia ci si accontenta di risposte scarme e intanto si impara a non andare più. A casa mia ci si affamma fino a quando non si fa qualcosa, qualunque cosa da mangiare. Ma non eravamo poveri, no, no. Non è mica una condizione necessaria per avere fame, per quello basta essere molto molto incazzati, tipo da tre generazioni. Mio padre e mia madre lo erano e questa fame se la portavano a puntata sulla giacca con una medaglia perché quella fame ero io. Il mio diploma prima, la mia laurea dopo il mio stagio non retribuito dopo ancora, il lavoro a nero nel palazzo ne aspetti, il licenziamento anche se una romanità d'assunta e infine il biglietto per l'estero, che non era un semplice cartoncino con sospritto il mio nome e il codice del volo, no, non era qualcosa di più. Dall'essere la fame io ero diventata la personalissima rivista dei miei genitori con il mondo. Sono andata via da sola una mattina senza conoscere niente e nessuno. quanto la cosa mi sembrava liberatoria, sapere che non poteva andare in nessun luogo perché non sei pronta all'inverno del nord, nonostante il piumino e la sciarpa, sapere che non poter confidare a nessuno l'ansia, la nostalgia, la mancanza perché nessuno capisce cosa voglia dire casa, mamma, sole, limone, ragù. E tutto questo era di una bellezza che mi vergognava nel metro e mi vendeva immune o quasi dal sentire e volere realmente, dal piangere, dal voler tornare indietro. I sensi unici tra l'ufficio e la casa mi calmavano i percorsi che sapevano impraticare per il ghiaccio anche. Io potevo essere me stessa, donna, giovane, con un lavoro, un conto in banca e senza che questo avecasse danno a nessuno. Mi era sempre piaciuto, lavorando la restauro di un quadro, di un affresco, pensarmi parte di esso, perché solo in questo modo, riconoscendomi in una delle figurine rappresentate, io avrei potuto prendermi davvero per avere tutto l'insieme. Però c'è in me, fuori dalla targhetta del mio ufficio, una linda infinitamente più piccola che si vedeva scomparire giorno per giorno e che solo ritrovandosi una traccia ripinta secoli e secoli prima poteva dirsi esistente. In quei giorni il mio viso scompariva del ritratto che stavo lavorando. Anche l'arte, che credevo non volesse altro da me che essere vista e tutelata e ricordata, ora pretendeva qualcosa, pretendeva che io scegliessi. Mio padre ha lavorato in fabbrica per quasi 30 anni e per quasi 30 anni ha anche quello stesso posto, lo stesso ruolo, lo stesso reparto. Non era stato lui a stancarsi, è stata la fabbrica a stancarsi di lui. Non è stato lui a fare una malattia, malattie che non dà lo stesso. Ecco, allo stesso modo io, che sono passata nel corso di 30 anni, dalla cassa dei supermercati, agli scavi archeologici, alla guida turistica, alla stagista in un museo, credevo di aver lasciato il mio paese, invece era stato lui a mollare me. Il mio paese cosa porta a tosse di me? Quale cicatrice che ho lasciato ha fatto la mia assenza? Gli ha fatto venire Susana con un certo carattere, una certa preparazione e poi mi ha detto grazie, tutto bellissimo, ma non ci interessa. Come uno che non può permettersi di avere un'auto fuori sedia, anche nel caso gliela regalino. E così io per tornare, cosa avrebbe dovuto fare di me? Una utilitaria. E sono tornata a viverci. Oggi, sei anni dopo, è il mio lavoro. Passare la mano sul muro, lasciare venire bene il plasmo, sporcarmi in una sabbia, cui io non sono abituata, è a vernice fresca, mi tinge di bianco, non ne ho paura. Penso che il futuro sia sempre meglio del passato. E quando il capomastro mi guarda e ride, ecco, proprio allora, mentre i ragazzi mangiano pane mortadella poco lontano da me, mi viene in mente che è come andare a trasferrare, però vestita di bianco. C'è il chissà quale grande legge che salva la bellezza ovunque e sempre. Loro, gli altri, tanto hanno spisto di mangiare, vanno, fanno, spaccano, alzano, tirano su nuove parete, la gente che qua si contenta gli fa spazio, sì, perché loro, loro costruiscono, devono farlo, hanno l'affalto. E io? E io voglio a spiegare quello che faccio io. Prima ho ammesso di essere il poi, ma per chi mi conosce io sono linda. Sono linda e sono sola, anche se faccio lo stesso lavoro di altre 2.500 persone della mia regione. Sono linda e rientro in una statistica che dice più di me e del mio futuro di qualsiasi parola. Ci sono parti di me e finabili solo così, in un 35% di lavoratori con contratti a progetto, un 20% di lavoratori con contratti di consulenza, un altro 20% di contratti di formazione e quella infinitesimale percentuale di 12% possibilità di un contratto redire a tempo indeterminato. Sono linda quella che ripristina fedelmente cose come nessuno, ormai non fa più cazzo. Sono linda, quella che davvero pensava di fare di questa passione per la ricerca, un lavoro vero, presente. Sono linda, quella che è andata e poi è tornata e vai a capire perché. Qui a casa mia in molti me lo chiedono, però ormai sono serio. Quando provo a spiegarlo mi dicono tutti che non devo essere così dura, così cina, che sono giovane, anche a 30 anni, che ho tutta la vita davanti, che è meglio tenere a perdere le possibilità, non mettere punti, aspettare. Mi dicono quello che vi ho già detto, che nella mia vita non è caduto niente di straordinario. Ah, poi precisano però, non ancora almeno. Grazie. Ho letto, ho lavato il bagno, ho sgrassato le mattonelle della cucina, ho stirato i capelli, ho messo lo smalto, ho parlato un po' con la mia orchidea, ho spostato i mobili, ho immaginato i miei figli a scuola e le ho sgaridati. Ho messo in ordine il loro romano e mi sono arrabbiata. Ho pulito il lampadario, ho cucinato una torta, ho fatto un giro in bancone pensando di essere in vacanza, ho spiato dalle pareti vicini, mi sono guardata allo specchio e ho pensato che così è peggio della galera. Ho sfogliato i giornali e poi ho pulito i vetri, ho aperto il computer, non ho trovato niente, ho fumato mezza sigaretta, mi sono pentita, ho rifatto il caffè e l'ho preso a mano, ho chiamato mia madre e ho ricordato che era morta, solo dentro una galera. Oggi sono a casa, anche domani sarò a casa, anche lui è a casa, mio marito, lui sarà a casa anche domani e anche dopodomani. Io no però, no, dopodomani lavoro. Ma tutti a scuola dicono che tu non lavori perché sei cattiva. No, non sono cattiva. E allora perché non lavori? Non è colpa mia. Ma neanche papà lavora, no. E perché? Rimando qui seduta su questo divano, ricordo tutte le domande dei miei figli, tutte le domande per cui ho dovuto inventare una risposta. Vedere crescere i miei figli mi ricorda tutta la mia vita, tutta la speranza che avevo per questa Italia. Cominciai a lavorare a più gioco perché mi piaceva, un passatempo che mi permetteva di vedere il mio fidanzato nel tragitto da casa fino al garage. La prima autostapaga arrivò come un lenzuolo ricamato, un orgoglio per me e per la mia famiglia, un orgoglio per questo paese, sapere di aver fatto qualcosa di italiano, unico al mondo. È difficile spiegare cosa si trova quando sei consapevole di aver creato, di aver lavorato per questo paese. Era il 1987, ero una cucitrice. Seduta su questo divano vedo tutto, tutto quello che ho fatto e ho detto, tutto quello che ho cucito. Ci vogliono 70 minuti per cucire una poltrona. Chi ne impiega 60 è più brava e vince. Vince il diritto di poter lavorare, uscire da casa la mattina, baciare sulla fronte i propri figli e non piangere. Ci vuole molto amore, molto la fantasia per non far soffrire i propri figli. Poi ti fai mille domande e non hai risposte, poi non hai parole giuste, corrette. Poi come spieghi ai tuoi figli che cos'è la cassa integrazione? Ma vuol dire che ci regaliamo una cassa? No, no. E cosa vuol dire? Prendi il tuo angelo a mola, ti faccio vedere. Un pupazzo con dentro una mola e due ali a forma di braccia. Ecco, con un pupazzo io ho spiegato a mia figlia cos'è la cassa integrazione. Le spiegai tutte le fasi del gioco, le spiegai che esistono tre tipi di cassa integrazione. La prima è la cassa integrazione a protezione. Ad esempio, da oggi muovo io la mola del tuo pupazzo e conto fino al numero 15. E io? Allora, dal numero 16 muovi tu la mola. E poi? E poi la muovo di nuovo io e poi la muovi di nuovo tu. Ma è un gioco! Ho giocato con mia figlia per 5 anni. 15 giorni lavoravo, 15 giorni stavo a casa. No, non era un gioco. Era una mola dentro lo stomaco. Ma si è rotta la mola, l'angelo sta male. Resto io a casa con il franzo e il mio pettoio a scuola. No, ma tu devi lavorare. No, sono così buoni che mi fanno rimanere a casa con il tuo angelo a mola. Ecco, la cassa integrazione a zero ore la spieghi a tua figlia dicendo che hai a disposizione infinite ore per riparare la mola del suo pupazzo e invece stai a casa perché non puoi lavorare. Lavorare era diventato un gioco. Un gioco con regole ben precise perché esiste un terzo tipo di cassa integrazione a rendimento o gioco tempo. Ti fanno lavorare tutti i giorni ma sulla base del rendimento, quindi sulla base di minuti. Un gioco, un gioco a tempo. Timbri il tuo cartellino così come il fischio dell'arbitro e cominci a correre, correre per sopravvivere. Devi essere veloce, spietata, affamata. Devi vincere perché se vinci continua a lavorare. Se non vinci stai a casa. La disperazione ti rende più meccanica e dura di una macchina. Più veloce e tagliente di un vento maestrale. Più animale senza Dio. Cominci a capire che niente cambierà. Guardi le macchine e ti vedi macchina e pensi che non ci sia niente di umano in una macchina. Che non ci sia niente che appartenga a Dio. Che non ci sia niente di buono a scivolare su un altro e superarlo. Pensi che non puoi essere anche tu una macchina. Pensi che è l'unica cosa che non sei riuscita a spiegare a tua figlia, a tua figlia, a me se tu lo metta sulle tue mani. E poi ti chiedono di essere più veloce. Ti chiedono di essere ebolista. Ti chiedono di essere cattiva. Ti chiedono di parlare solo con una macchina. Ti ringraziano sempre e ti danno una carezza di ferro. Ma come fai a spiegare a tua figlia che non te puoi andare? Come fai a spiegare a tua figlia che sei incazzata? Ma perché piangi? Eh no, no, non pianto. Ma sei triste? No, sono incazzata. Allora non sei cattiva. Ma no, sono incazzata e cattiva. Queste mani non mi piace fucire. Rammetto, ammetto. Voglio riparare per i miei figli. Voglio lottare per il loro futuro. Non voglio essere una macchina. voglio avere i miei diritti. Voglio poter svegliare ai miei figli come si trotta, come si vince a fianco di questo paese. Io devo urlare il diritto del lavoro, quello della speranza, consumare a dare fastidio, all'incazzata, ad essere scotta e cattiva. Devo continuare ad essere una donna in questo paese. Devo imparare, come mi dico, ad essere anarchia. Imparare che si può anche morire per essere umani. Cassa, esubero, indotto. Parole difficili. Ci siamo in attesa di troppi anni. E le parole sono sempre le stesse. Politica, Italia, lavoro, parole. La prima volta che ho incontrato un giornalista, me lo ricordo. Lui mi guardava come un ago cannula, io lo guardavo come un ago aspirato. Lei mi sta dicendo che non vuole andare via? No, no, le sto dicendo che questa è la mia vita. Ma, scusi, come può dire che un lavoro, una macchina, un'azienda è la sua vita? No, sono le mie mani su quella macchina. Ma, per questo paese, lei è solo una donna in casa integrazione, sì, ma sono anche una madre in questo paese. Ma da qui a sei mesi, lei non avrà più un lavoro. Cosa farà? Si perderà? Senta, lei lo sa, lo sa, che non sta parlando con una macchina. Ma, ma perché vuole lavorare nero? Chi ti ha detto questa cosa? Pasquale dice che sua madre lavora nero. Poi cosa dice Pasquale? Dice che sua madre è sempre stante e che i soldi sono sempre pochi. Ci sono ancora lavoratrici, pur essendo in casa integrazione, lavorano almeno. La mamma di Pasquale è un esempio, un esempio di disperazione. Cioè, gente che ha vergogna di chiedere aiuto alla Caritas e preferisce andare contro la legalità. Ma è disperazione, io non riesco a chiamarle in un altro modo, non me la sento, non voglio giudicare il dolore. Gente che è tornata dalle ferie, ha trovato i carcelli chiusi. Io forse sono stata più forte, più fortunata, più incazzata, semplicemente. Gente che continua a giocare con il nemico, gente che pur di lavorare ogni giorno, scende in piazza a vedere cosa c'è da fare, se c'è qualcosa da fare, si reinventa, si accontenta, si omiglia, si dà al lavoro nero. Questo non è accettabile in un paese che si dichiara cattolico e civile. Ci deve essere lo stesso livello delle cose. Deve esistere un diritto insindacabile che non ci faccia morire di disperazione. Noi non moriremo di disperazione. E di cosa moriremo? Ma? Moriremo di sogni. Ma? Ma tu hai paura? Sì, io ho paura. Per te. Ho finito. Ho quasi finito il mio lavoro. Ho spostato un po' il cuscino perché avevo male alla schiena, ho alzato lo sguardo e non c'era nessuno. Ho visto il filo che si muoveva dentro l'ago che rimaneva fuori. Ho continuato a manovrare tutti sulla pelle. Ho provato fastidio e dolore. Ho continuato ad accarezzare la pelle come conforto. Ho premuto con i pugni. Ho stirato le mani fino a dove potevo. Pianto come un punto liscio. Ho sentito le urla in un pozzo ma hanno alzato lo sguardo. Mi sono alzata però. Ho fatto una pausa, ho preso un bicchiere d'acqua. Mi sono riseduta. E sono ancora la seduta su questo divano.